Continuano a fioccare premi ai telespettatori di Buonasera 287, il programma di gioco e intrattenimento di Sicilia TV che va in onda il lunedì e il venerdì alle ore 21 su Sicilia TV. La sedicesima puntata, quella di venerdì 17, ha portato fortuna specialmente ad Alessia Costa, telespettatrice del programma che si è aggiudicata alla praticissima imbastatrice planetaria Owell offerta da Electroshop di Favara, indicando in diretta come probabile numero esatto di ditalini contenuti nel barattolo 5.821. Ed in effetti 5.821 erano i ditalini contati pazientemente uno a uno e messi dentro il contenitore trasparente. Ed ancora molti altri premi sono stati consegnati con il gioco dell'isola e con la sequenza. Davvero fortunati i telespettatori del programma televisivo che hanno interagito con i conduttori Vanessa Miceli e Salvatore Sorce, riuscendo ad aggiudicarsi molti premi messi in palio dai numerosi sponsor. Come di consueto, spazio è stato dato anche alla musica ieri sera con la bella Denise Orvat della scuola di canto Arcadia. E poi spazio alla medicina complementare con il dottor Gaetano Liotta che nel salotto del programma ha parlato di osteopatia. La branga della medicina in fase di riconoscimento volta al ripristino dello stato d'equilibrio generale del corpo attraverso specifiche tecniche di manipolazione. E adesso cosa ci riserverà la prossima puntata? Quali premi? Quali ospiti? Quali argomenti? Potremo scoprirlo a breve, dopodomani lunedì. Ricordiamo ai possessori di cellulari Android di scaricare gratuitamente Sicilia TV App, non solo per leggere e vedere le notizie e i video dei nostri telegiornali, ma anche per restare aggiornati su tutte le novità e gli aiuti veloci sui giochi di Buonasera 287.